Quarta giornata del girone di ritorno nel girone F di Serie D, con, sul fronte delle tre molisane, solo l'Olimpia agnonese chiamata ad un confronto interno. Per l'11 Granata all'Acqua Sant'Anne di Trivento ci sarà l'incrocio con il Castelfidardo Fananino di Coda, sfida chiave per gli altomolisani, determinati a dare uno stop alle tre sconfitte in successione che stanno caratterizzando l'attuale momento. A proposito di serie, formazione invece in grande ascesa è il Campobasso, che arriva alla trasferta in casa del Forlì, forte di otto risultati utili consecutivi, cinque successi, di cui gli ultimi due in successione e tre pari, ma troverà una squadra altrettanto in salute, come testimoniato dai quattro punti raccolti negli ultimi due turni dai forlivesi. In serie, peraltro, è anche l'Isernia, reduce da tre pareggi consecutivi e chiamata al confronto in casa di un Sant'Arcangelo che vorrà riprendere la marcia dopo tre stop in successione. Insomma, una domenica in arrivo di quelle piene di emozioni, in grado di trasmettere tanta adrenalina agli appassionati.